Nella partita c'è poco da dire, campo ai limiti della praticabilità, stadio da Serie D e non certo da Lega Pro. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto a Bisceglie, sugli spalti, è stato uno spettacolo sinceramente mortificante. Da un lato nello Martone, dall'altro l'amministratore delegato Nicola Circelli, vicino a Ezionino Capuano, come sempre incontenibile. E' davvero una furia mentre assisteva alla partita. Non si sono salutati, non si sono parlati. Abbiamo invece avuto modo di parlare un po' con Circelli che ci ha detto sempre gli stessi concetti. Izzo sa quanto io voglio, allora perché non mi dà i soldi? La Covid-19 è tutto a posto. Io ho presentato i documenti che dovevo in vista della scadenza del 7 febbraio. E poi anche il fatto che lui ritenga che bisogna ridare un po' un'immagine al club bianco-verde. Ma naturalmente ci viene da ridere perché quella immagine di cui parla Circelli ha contribuito lui stesso a rovinarla con quel teatrino vergognoso che è andato in scena la scorsa settimana, di cui poi si è reso protagonista anche nello Martone. In tutto questo, dov'è Luigi Izzo? Ce lo chiediamo. Lui continua a sostenere che sta lavorando, sta lavorando, sta parlando con questi famosi imprenditori irpini che dovrebbero essere Marinelli, Matarazzo e D'Agostino per salvare l'Avellino. Ma ieri non c'era Bisceglie e intanto non sappiamo poi se davvero la sua strategia è questa oppure no. Sappiamo però che la prima scadenza della rata di 143 mila euro con la Sidicas è stata rinviata. Scadeva il 31 gennaio, è stata rinviata tra 15 giorni. Sappiamo che il 7 bisogna presentare i documenti alla Covid-19, altrimenti la società ritorna nelle mani della Sidicas e sappiamo anche che il 16 febbraio bisogna pagare gli stipendi, l'importo è di 290 mila euro. Queste sono le cose che sappiamo, così come abbiamo ascoltato i cori dei tifosi. Sono veramente, credo, assolutamente nauseati per quello che sta succedendo, per lo spettacolo che stanno offrendo tutti. E purtroppo è proprio vero che Avellino dall'estate del 2019 è diventata terra di conquista. Noi non ci siamo, noi chiediamo un minimo di rispetto, un minimo di serietà e di chiarezza.